Massimo Giusti, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che cosa spinge la vostra fondazione a sostenere una realtà come quella del CSI e quale importanza ha questa sinergia per la nostra città? Innanzitutto perché da anni ormai la fondazione ha riconosciuto nel centro sportivo italiano una realtà indispensabile che crea aggregazione e crea socialità, che è un valore aggiunto che questa organizzazione è riuscita a dare negli anni passando da una semplice attività sportiva a davvero un interlocutore indispensabile e fondamentale per quanto riguarda l'integrazione e la creazione di socialità in questa città. E quindi penso che sia indispensabile per la fondazione poter continuare a sostenere l'iniziativa del centro sportivo che sono tra l'altro tante e molto variegate e penso che sia davvero per la città di Modena e per il territorio di Modena come provincia, diciamo così, un indispensabile interlocutore per tutto quanto riguarda la realtà dai disabili alla scuola, agli anziani, ma appunto soprattutto questo tema dell'aggregazione e della socialità. Grazie a tutti.